Siamo in via Michele Bellotti, siamo alla confluenza con via Trasimeno, il noto sottopasso conosciuto da tutti gli aretini. Notiamo che c'è uno stato di degrado, uno stato di particolare abbandono in quella città che vorremmo diventasse una serie a pretendente a Arezzo, capitale italiana della cultura. E anche la cura, la manutenzione della nostra città è fondamentale, fondamentale per la convivenza civile e fondamentale per sviluppare il turismo d'arte, che è una delle proposte che facciamo alla città. Qui vedete uno stato di completo abbandono, esistono delle reti, delle transenne buttate per terra, dello sporco. Siamo in una zona particolarmente interessante in senso negativo perché qui purtroppo il traffico di tossicodipendenza è molto alto, si vede dei tappeti di siringhe che delimitano addirittura la strada ferrata. Perché ci sono queste transenne? Io penso che le transenne dovevano essere temporanee per poi fare qualcosa in questa piccola porzione che è tra due quartieri molto importanti, Saione e Giotto. Queste transenne dovevano essere temporanee, sono tanti mesi ed è realmente un monumento alla sciatteria, quella che la comunità aretina, comunità civile, le associazioni, i movimenti, gli osservatori come il nostro non vogliono davvero. L'amministrazione dimentica luoghi importanti, questo è un luogo di grande passaggio non solo per gli abitanti di via Michele Bellotti ma anche per il traffico che c'è verso Saione, molto spesso ovviamente pedonale, il sottopasso di via Trasimena è un punto d'Orens per la verità da tanti anni. E dalle piccole opere che si vede il grado di civiltà e di cultura di questa nostra città. Noi non dimentichiamo per esempio che questo è un anno molto importante per Arezzo, poco sfruttato, è l'anno vasariano. E Giorgio Vasari in questo caso naturalmente si rivolterebbe nella tomba. Tutta la comunità, tutte le amministrazioni si unissero per dare un'ipotesi di sviluppo alternativo. La città è degradata, la città è caduta in basso, ma la città siamo tutti noi e tutti insieme possiamo risollevarla.